Decine di minori britannici potrebbero essere stati vittime di violenze da parte di esponenti del mondo politico negli anni Ottanta. Dal governo di Londra arriva la notizia dell'avvio di un'indagine volta a chiarire nomi, fatti e prove sui tentativi di insabbiare la verità. Per evitare intromissioni e fughi di notizie, la nuova inchiesta sarà affidata ad una commissione indipendente presieduta da Peter Wanless, presidente della Società Nazionale per la Tutela dell'Infanzia. Il caso torna all'attenzione del governo dopo la denuncia della scomparsa di centinaia di documenti raccolti all'epoca dei fatti da un ex deputato conservatore, ora deceduto. Il nostro lavoro deve riflettere tre principi, ha affermato il ministro degli interni Teresa May. La priorità è assicurare i colpievoli di questi crimini disgustosi alla giustizia. Poi va assicurata la massima trasparenza laddove non intralci il corso delle indagini. E quindi rendere note gli errori che ci hanno impedito di proteggere i minori e imparare da questi. La Gran Bretagna, ancora sotto shock per le rivelazioni sulle centinaia di abusi compiuti da Jimmy Saville, volto storico della BBC e della star televisiva Rolf Harris, cerca ora di far luce sul rapporto tra pedofilia e politica. Nel 2013 un primo tentativo di inchiesta si concluse nel nulla per mancanza di prove. Dal governo l'ha promessa di avviare anche un'indagine parallela volta ad appurare il ruolo delle istituzioni nella gestione del caso. I risultati dell'inchiesta non dovrebbero essere disponibili prima della primavera del 2015.